Salve a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. E' da tanto che non mi faccio vedere in video, per un motivo, per un altro, ma questa volta ero costretto a fare la video recensione. Voi direte perché? Perché la legge a Katia per la festa del papà mi ha regalato questo film che io adoro alla follia, diretto da Stuart Gordon e prodotto dal suo amico Brian Yuzna, ovvero parliamo di Dagon, film del 2001, portato che è Eagle Pictures, finalmente da noi uscito la scorsa settimana. In questa edizione Hell House vuole fare un po' concorrenza a Midnight Factory, però cazzo se già mi parti con Dagon, minchia è come se puoi fare strada a Eagle Pictures. Questo film lo trovate a 15€ circa, bellissimo la copertina, è allucinante vi giuro, bellissimo veramente. Come vedete questa è l'edizione, molto bella questo effetto qua, c'ha lo slip case in questa maniera e poi abbiamo il famoso libretto che secondo me non sarà di due pagine in croce, vediamo un po', si saranno due paginette come vedete. Aspetta un attimo e lo faccio vedere, uno dice ma io non lo volevo vedere il librettino. Come vedete qua è l'house, io spero non ci sia uno spoiler di nessun tipo, qua ci sono i fantastici disegni, guardate che belli, fantastico, figata. e la pagina dopo, che diciamo che ci sono scritte le varie cose secondo me, perché è tratto da un racconto di Appa, Howard, HP Lovecraft, ragazzi io mi ricordo tutti i due nomi, veramente belle le illustrazioni, in Blu-ray, giustamente perché cazzo compra i dvd e da denuncia penale per chi si compra i dvd che ci sono i blu-ray, porca miseria a voi, posso capire che non ci sono altre edizioni, ok mi prendi il dvd, ma che cazzo, se c'è il blu-ray che cazzo ti prendi il dvd, ma sei col tubo catotico, porca puttana, se avete un televisore nuovo, ma che cazzo vi prendete? Poi non lo so che minchia avete a casa. Film, come ho detto, del 2001, Stuart Gordon, se non mi sbaglio, è venuto a mancare qualche anno fa, se non mi sbaglio, avevo letto una notizia, non so se è proprio confermato, confermato come voi, io spero che Stuart Gordon non stia bene, io lo spero, peccato che poi non ha fatto più niente, inizio 2000, ha fatto questo film e qualche altro film e poi è andato, ha finito, hanno fatto tanti bei film insieme a Brian Yuzna, ovvero la saga di Reanimator, Dolls, Society, veramente dei filmoni che avevano sempre una sua morale di fondo, è questo che ho sempre adorato dei loro film e che hanno fatto sempre dei film horror intelligenti, con una qualità altissima, sia anche proprio sugli effetti speciali sempre artigianali, qua abbiamo un po' di CGI, che vabbè è un po' invecchiato male la CGI di sto film, ma grazie a cazzo, parliamo del 2001 e ancora la CGI era quella che era, quindi ci possiamo passare sopra, questi capelli fanno schifo. Che cosa dire della trama? La trama è a quanto semplice, abbiamo questa coppia, lui un investitore ha un sacco di milioni perché investe in borsa, ancora non andava veramente di moda non investire in borsa come oggi, tutti sono dei guru su TikTok a rompere i coglioni su investimenti, ecco è pieno di milioni, fissato sempre di stare vicino al computer, la fidanzata gli stava facendo un lavoro di bocca, lui era così distatto da pensare questi vari conti che non se le è goduto proprio il pompino. Da qui in poi abbiamo anche, conosciamo l'altra coppia che insieme a lui, questi qua forse anche loro degli investitori, non ci viene spiegato che cazzo sono questi due tizi sui 40 anni circa, forse l'uomo è più vecchio, la signora forse gli potrei dare 40, l'uomo sui 55 penso. Tranquilli no, che stanno cercando di beare il tutto, e la ragazza dice oh non ti posso fare un pompino, sembra questo cazzo di compiuto, dice eh ma non si sa mai che calono le borse e perdiamo tutto, lei piglia, se rompi i coglioni gli butta il computer a mano. Così, vaffanculo, così non rompi i coglioni e meno mi lecchi la figa. Il problema è che in quel computer aveva, non ha salvato un cazzo, cioè non ha fatto nei cloud queste cose qui, cioè e quindi è andato perduto tutti i dati. Bravissima Barbara, Barbara è la fidanzata del nostro protagonista, salutiamo anche Barbara che ci segue. Da qua, con un brutto tempo, lui ha pure un incubo in il suo film di questa sirenetta a tette di fora, che penso che ho più tette io. E no, sembra lui quasi innamorato di questa qua, forse forse non stava pensando di vari calcoli, ma stava pensando forse alla sirenetta, non lo sappiamo. Esce fuori, diciamo chiamano firepista, fa passare una nostra cosa. La barca perde il controllo e praticamente sta iniziando a entrare acqua e la donna, quella sui 40, la gamba è incastrata proprio in quel buco, perché lei era proprio nel sotto, diciamo nella stiva dove ci sono le camere da letto e quindi lei rimane incastrata con la gamba. Cosa vuole fare il nostro caro protagonista, che non mi sto manco ricordare il nome, Paul, decide di andare in quest'isola che gli si presenta proprio davanti all'occhi. siamo in Spagna, un'isola spagnola. E gli dice alla sua fidanzata Barbara, diciamo andiamoci, vediamo un po' se potremo chiedere aiuto, perché qua la situazione è quella che è. Barbara dice no, no, io rimango con lei, non ci vuole venire. Quindi ci andrà proprio lui di persona insieme all'altro tizio. Anche se non sono molto convinti. Vanno lì e vedono che questo paese è un po' strano. L'aria che si respira mi ha fatto ricordare Resident Evil 4. Penso che Shinji Mikemi ha preso ispirazione di questo Dagon. Proprio la popolazione malata, la setta, tutti quanti che parlano in spagnolo. Figlio di puta, cabron! Cioè tutte le cose che abbiamo sentite Resident Evil 4. Il remake ancora lo devo giocare, devo comprarmelo. Me lo deve regalare in parte mia sorella Resident Evil 4. Vediamo se riesco a portarvi dei video, ma non penso, perché l'Xbox non fa un cazzo, non registra video. Insomma, me lo gioco per i cazzi miei un giorno, casomai. Lo porterò quando ero una minchia di PS5. Allora, ritornando a parlare di Dagon. Stavamo dicendo, vedo questo paese un po' molto maccio, tutta questa gente tutta deforme, uomini quasi pesce, quasi trasformati in pesce. E gli danno, iniziano a dargli quasi la caccia a lui. E saranno anche in pericolo sia Barbara e sia gli altri due, che non vi dico cosa accadrà. E farà anche la conoscenza dell'unico essere umano, lì, che non se lo cagano di striscio, perché lo prendono per pazzo. È anche un briagone, quindi gli fa schifo al cazzo, quindi non lo vogliono manco regalato. E qua a noi ci verrà raccontato la storia di come loro hanno avuto, diciamo, questo avvicinamento a Dagon, questa creatura marina che gli ha dato ricchezze e pesce fino a quando quasi sono aperti pure i ristoranti giapponesi lì. Sto scherzando. Quindi loro, quasi quasi, sono andate anche incontro alle loro religioni stesse e dicono, ma a me tanto, essere cristiano, essere evangelista, testimoniano, mi dà un cazzo, a sto punto viva Dagon, mi dà l'oro, mi dà il pesce fresco, e scusami ma chi cazzo non si mette a prega Dagon. Il problema è che, siccome non hanno più sacrificato nessuno, Dagon non si è preso un po' con l'oro, quindi l'ha fatto trasformati in gente deforme e mezzi pesci. Quindi ora che finalmente hanno delle persone da sacrificare e da far trombare a Dagon, sì, ho detto bene, da trombare proprio fisicamente, proprio Dagon che è una creatura gigante, deve cercare di mettere incinta un essere umano per portare avanti la sua la sua gene, no? Il film è davvero interessante, vi giuro, un'ora e quaranta, sempre a cardiopalma, perché questo pronista dovrà vedersela con tutte queste creature e dovrà cercare di scappare ovunque, musiche fantastiche, effettoni bellissimi, musiche belle, bella fotografia che valorizza proprio il marciume, proprio Stuart Gordon veramente qua si è superato, veramente è meraviglioso il film, veramente merita, peccato che qua nessuno ne parla, perché forse Igor Pitch sono regalato film a Death Strand, ma anche quindi non ne parla qua nessuno, se ne aveva per la mia ragazza, io più avanti l'avrei comprato e ne avrei parlato, però mi ha dato la possibilità di verlo prima e io ancora la ringrazio davvero di cuore. Cosa dirvi altro? Andate a recuperare se amate i racconti di HP Lovecraft, perdonatemi la pronuncia e se volete anche immagervi in un mondo veramente diverso da tutti i film horror che ci vengono presentati, io mi ricordo un film della Midnight sempre tratto da HP Lovecraft che era una grande cacata, questo è un filmone che io mi ricordo avevo detto di recuperarvi questo film qua, finalmente ora ce l'abbiamo in un'ottima qualità, il Blu-ray è bellissimo, si vede e possiamo dire che finalmente tutti quelli che si sono lamentati se lo possono comprare e se lo possono godere appieno a casa. Io vi ringrazio, ringrazio ancora Larry Giacati per avermi regalato questo film perché mi ha reso veramente contentissimo di rivederlo dopo tutti questi anni, io ero piccolissimo mi ricordo e sapevo che mi sarebbe piaciuto, anzi lo avrei apprezzato ancora di più di quando lo vidi ai tempi e non perdervi, non vi dovete perdere proprio questa occasione ragazzi, guardatelo, recuperatelo, 15 euro spessi veramente bene, ve le spendete, lo so di cima, ma a te te l'hanno regalato, fatevelo regalare, non lo so, fateli una fidanzata, un fidanzato e ve lo fate regalare a Dagon, vi fidanzate soltanto per fare questo o farvi regalare altro. Che devo dire? Io non voglio rovinarvi il film, ve lo dovete vedere peccazzi vostri, se volete un voto mio, io ci do, non voglio proprio esagerare proprio per tutto quello che mi ha trasmesso e anche tra uno dei pochi film tratti dai racconti di H.P. Lockraft che è stato reso veramente bene, proprio con amore e con passione e da anche fan, perché si vede proprio che ha mai H.P. Lockraft e non ha preso così il riassuntino e ci ha voluto fanfilm sopra. Quindi proprio il rispetto che ha russodetto Gordon per questo grande scrittore degli ultimi, qualcosa so, 200-300 anni, non so quando H.P. Lockraft è nato, perché io ho problemi con le date, figuratevi se non mi ricordo già le date delle persone che conosco, figuratevi se mi raccordo io la data di uno scrittore di tanto tempo fa. Quindi io vi ringrazio ancora, saluto chi mi ha commentato in tutti i video, ovvero Cesare dell'Agnello, saluto anche Barbara Rossi, saluto anche Francesco Ippolito che sicuramente qualcosa avrà da dire su questo film, Rocco Antonio Sanza, saluto anche Alessia Ranieri, e mi pare che non manca nessun altro, se non mi sbaglio. Se avrò saltato uno di voi, scrivetelo, salutiamo anche Angelo Ignazio Alagna, penso che lo saluto già, ma non lo so, Federica Bono, salutiamo anche, non lo so se ha commentato, mi ricordo, c'ho problemi, regà, non mi ricordo, cazzo, chi mi ha scritto poi? C'ho problemi, c'ho problemi di memoria, c'è un altro ragazzo che mi ha scritto, ma non mi stioro dando il nome, lo saluto anche quel ragazzo, che mi ha scritto, se non mi sbaglio, sul fatto di vedermi Mary per sempre. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video.